Ho lavorato per 15 anni come dipendente di grandi aziende. Quattro anni fa ho lasciato il mio lavoro per Google per diventare imprenditore. Ho visto entrambi i mondi per un buon numero di anni. Qual è meglio? Come si guadagna? E soprattutto, esiste un insieme di caratteristiche che rendono una persona adatta per un ruolo, ma non per un altro? Sono Davide Barbieri e oggi voglio provare a rispondere a queste domande.